Buon venerdì, buona salute a tutti, puntata oggi molto significativa e molto ricca, parliamo di fumo, quando la vita va in fumo, fumo di sigaretta, fumo di pipa e quant'altro, di sigaro e quant'altro, ne parliamo con illustri ospiti, due ve li presento subito, il terzo ve lo presento dopo perché è una sorpresa. La non sorpresa è il professor Guido Cohen-Tirelli, una sicurezza per punto doc, quando abbiamo bisogno di consigli giusti chiediamo a lui e di solito ce li dà anche, anche perché è stato di recente, ormai è passato un annetto, ma insomma medico curante di un premio Nobel per cui insomma è persona assolutamente affidabile. Il professor Guido Cohen-Tirelli è il primario toiatra dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Abbiamo il piacere di avere di nuovo in studio, perché era già venuto a trovarci, il professor Tommaso Pirronti, radiologo del Policlinico Gemelli, Università Sacro Cuore di Roma. Professor Pirronti, buonasera. Buonasera. Che ci parlerà di alcune nuove tecnologie applicate alla prevenzione delle malattie, di alcune malattie respiratorie e il terzo ospite ve lo presento con questo filmato. In un recente articolo comparso su una rivista prestigiosa Human Reproduction, compare un lavoro svolto da due importanti università canadesi dal titolo molto significativo. Il fumo di sigaretta provoca una perdita di follicoli nelle ovaie dei topi, esposti a concentrazioni di fumo simili a quelli delle donne. È noto ed è ben documentato che il fumo rappresenta un tossico per il sistema riproduttivo ed è associato a infertilità e a problemi seri delle ovaie. I nostri risultati, i nostri dati suggeriscono e dimostrano che l'esposizione al fumo di sigaretta riduce in maniera significativa il numero dei follicoli ovarici. Ecco, se ho interrotto il video, non per cattiva educazione televisiva, ma perché magari poi lo riprenderemo successivamente, ma perché abbiamo pensato di chiamarlo in corpo Revili ed ecco che è arrivato il professor Claudio Manna, l'autore di questo video molto interessante che esprime una filosofia che noi vogliamo oggi tracciare e segnare in questa trasmissione televisiva. È generalmente noto nel percepito, nell'opinione pubblica, che il fumo di sigarette faccia male ai polmoni. Invece, cari telespettatori, il fumo di sigaretta ha ben altre proprietà negative e assolutamente deprecabili perché, a giudicare da questa diapositiva che adesso vediamo, colpisce partendo in senso orario dalle ore 10, grossomodo dal cervello che si trova in alto a sinistra del teleschermo, colpisce appunto il cervello, colpisce poi, proseguiamo, il laringe, il cuore, la tiroide, naturalmente i polmoni, l'apparato cardiorespiratorio, l'apparato riproduttore come ci ha anticipato il professor Manna e recentissimi dati indicano che moltissimi soggetti che vanno incontro a osteoporosi devono a questo deprecabile fenomeno al fumo di sigaretta. Allora, cominciamo innanzitutto con il cervello, non abbiamo il neurologo, però, professor Cohen, i nostri ragazzi che si mettono a strafumare, a strabere, nel corso della preparazione degli esami, considerato che il fumo di sigaretta abbassa il trasporto di ossigeno alle cellule, fanno bene o fanno male? Fanno malissimo. Perché abbassiamo la quantità di ossigeno presente a livello dei celluli cerebrali e pertanto non avremo quelle facoltà mnemoniche necessarie per arrivare a una buona performance negli studi. Ma poi oltre a quello, oltre al problema cerebrale assoluto, è anche pericoloso per tante altre funzioni che gli studenti dovrebbero avere perfette, cioè per esempio la respirazione nasale, la qualità della mucosa buccale e laringea, perché in effetti il fumo, il fumo di sigaretta, il fumo di pipa, il fumo di sigaro, in qualche modo il fumo è un irritante su tutte le mucose. Per cui, visto che lo studente già è impegnato psicologicamente in maniera molto sentita per arrivare a una performance, l'avere delle infiammazioni a livello delle prime vie aeree non è sicuramente una cosa positiva. E in effetti vediamo da questa prima diapositiva, la seconda diapositiva, che la malattia dell'epitelio respiratorio, quella a cui proprio stava facendo riferimento il professor Cohen, inizia da fattori predisponenti che possono variare da agenti fisici, chimici, la nebbia, lo smog naturalmente, i polluttanti e il fumo di sigaretta che costituiscono una prima lesione dell'epitelio respiratorio che poi si scatena in una condizione di infiammazione e per cui questi malati cominciano da bambini con la rinite, proseguono con l'asma da giovani, finiscono con l'enfisema nel soggetto adulto. Ora, inquadrare le malattie respiratorie in tre minuti, dicendo che esistono delle fasi di irritazione dell'epitelio per poi arrivare a delle forme iperreattive, come suggeriva il professor Cohen, rinite ed asma, che sono sostanzialmente cugini, per poi finire alla malattia degenerativa e questa è quella che noi chiamiamo la storia naturale della malattia respiratoria in tre minuti. Professor Pironti, lei è d'accordo? Sì, perfettamente, ma aggiungerei un altro apparato che abbiamo appena sfiorato, la pelle, la cute. Le donne dovrebbero essere molto sensibili agli aspetti negativi che si vengono a determinare su questa parte del nostro organismo, ma io in particolare mi interesso di polmone, ma di tante altre cose, per cui non è difficile per me affermare che nella mia attività quotidiana vedo frequentemente alterazioni di altri organi a carico, oltre che a carico del polmone. La diagnostica per immagine oggi offre tante possibilità e le vedremo appena più avanti. Ecco, professor Manna, le piace questa, la condivide questa impostazione di un attacco pluriorganico, plurifattoriale da parte del fumo a tutti i nostri, che ha come bersaglio tutti i nostri organi apparati, compreso quello riproduttore. Assolutamente sì, anzi io rilancerei sul discorso che voi giustamente avete affrontato sull'apparato respiratorio, perché si è visto da recenti ricerche che il fumo, anche quello passivo, che la gestante, diciamo così, va in contatto, può determinare a livello del feto una predisposizione delle mucose respiratorie a sviluppare poi delle infezioni addirittura di meningococco una volta nato. Quindi direi che il tuo ragionamento non solo è giusto, mi trovo d'accordo, ma ulteriori ricerche hanno precisato questi altri fattori negativi addirittura sul neonato. Ecco, nella diapositiva che vediamo, professor Manna, ci spieghi un po' quello che non deve, perché non deve fumare una signora in stato di gravidanza? Per tantissimi motivi, il fatto che siano diminuiti i pesi dei neonati in donne fumatrici sicuramente è un dato ormai accertato da tantissimi anni, quindi ritardo di crescita fetale, dunque tutti i rischi neonatali. Ma ultimamente anche proprio un'alterazione dello sviluppo psicofisico del neonato si è visto perché il fumo si è rivelato come un agente, perlomeno nei ratti, che proprio destruttura i neuroni, quindi li rende proprio diversi, perché proprio crea una modificazione della struttura. E quindi poi questo a sua volta si è visto che ci sono anche, e questo si è visto anche nei neonati, nella specie umana, proprio dei disturbi dovuti a una iperattività di questi neonati. Quindi già questo è un fatto oramai abbastanza incontrovertibile. D'altra parte bisogna anche pensare che il fumo di sigaretto, lo vediamo da questa diapositiva, contiene dei carcinogeni che sono addirittura elencati in una lunghissima serie che arriva fino a 4000 sostanze, IVI includendo il famoso polonio radioattivo di cui le nostre sigarette sembrano dotate. E questo naturalmente significa che il filtro polmonare lascia passare tutte queste sostanze che poi vanno anche in altre regioni. Professor Pironti, c'è un modo eidologico, cioè attraverso la radiologia o tradizionale ma probabilmente quella più evoluta, di valutare per esempio sulla coronaria i danni o precoci o già realizzati da fumo di sigaretta. La coronarite è evidenziabile in una modalità idologica? Non nel senso di infiammazione che intendiamo noi comunemente, nel senso di un incremento di deposito di calcio che probabilmente è l'effetto di plurifattori laddove l'ossigenazione, il fumo, i cancerogene o altre sostanze inducono una più facile localizzazione di questi depositi e quindi predispongono e determinano la possibilità di insorgenza di patologie delle coronarie. Ecco, in questa diapositiva io ho cercato di esemplificare quello che ha detto il professor Pirronti. Poi ci sono anche degli studi di Maseri, noto cardiologo del Gemelli, ma soprattutto di cardiologi scandinavi ed inglesi che hanno dimostrato quanto il fumo di sigaretta con tutti i suoi antiossidanti, no rimettiamo la diapositiva perché è importante, creino attraverso la lesione epiteliale un'attivazione delle cellule infiammatorie, cioè arrivano i soldati della fanteria che vogliono difenderci dall'aggressione da fumo, naturalmente questo vale anche e soprattutto per lo smog. Ma questa aggressione, questa fanteria di cellule antinfiammatorie crea un'aggregazione piastrinica, uno sconquasso specialmente sulle caratteristiche del sangue. L'aggregazione piastrinica aumenta e di lì il gioco sulla chiusura delle piccole arterie coronarie è assolutamente d'obbligo e quindi uno dei guasti del fumo di sigaretta è forse uno dei più precoci e la mortalità da infarto come numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato. Ritornerei con il professor Coen Tirelli a stigmatizzare quanto sia importante l'astenzione dal fumo ai fini della fisiologia delle prime vie aeree, cioè naso e vie aeree superiori. Allora si è visto che nel fumatore è molto più facile avere infezioni respiratorie, cioè non è quantificato in maniera corretta ma la correlazione tra malattie da raffreddamento e fumo esiste sicuramente. Quello che invece esiste e ne siamo certi, abbiamo i dati certi, è che il 5% dei tumori della popolazione sono dati nel distretto otorino-angoiatico, cioè alte vie respiratorie, nel 5% dei casi sono dati da fumo. Per cui quando tu vai a vedere che il 6% sono uomini e il 3% sono donne, già hai individuato un grosso gruppo di persone che si ammaleranno di tumore solo perché fumano. La lesione da fumo è sia una lesione sulla mucosa in quanto funzionale, perché il fumo crea un aumento dell'infiammazione e un aumento della secrezione di muco, ma al di là di questo ci sono tutta una serie di patologie da contatto date dal tipo di fumo che si fa. Se si fuma proprio la pipa, solo per la temperatura del fumo che si mette nella bocca si hanno delle lesioni della lingua e della mucosa del faringe, cioè della bocca, proprio precise da pipa. Noi vediamo i fumatori di pipa che hanno quasi sempre delle grosse lesioni, precancerose o cancerose, date solamente dalla temperatura del fumo che viene fumato. Il fumo da sigaretta dà altre lesioni, sempre di più laringee, cioè più basse, perché è un po' più freddo dal punto di vista... Ecco qua, il cancro della lingua. Ma sulle corde vocali abbiamo persone, per cui la persona che ha dei sintomi chiari, che sono quelli del cambio della voce, diminuzione della voce, problemi di declutizione, problemi anche di dolori a livello del rino faringe, dovrebbe immediatamente controllarsi e smettere di fumare. Io pregherei ai nostri telespettatori di cominciare a telefonare. Noi non facciamo terrorismo o demonizzazione del problema fumo, però stiamo cominciando ad avvertire i nostri telespettatori che il bersaglio del fumo è pluridirezionale. Non va soltanto verso l'apparato respiratorio, va verso tutti gli organi apparati. E vorrei ricordare, i nostri illustri ospiti sicuramente ne hanno contezza, che il cancro della ringe è un cancro rispetto a tutti gli altri maledettamente invalidante. Perché non soltanto poi un intervento di laringectomia porta alla impossibilità della fonazione, ho grandi difficoltà della fonazione. Professor Cohen, se io sbaglio, mi correga, prego. Ma ci sono problemi della deglutizione, ci sono problemi psicologici, perché il malato... Di accettazione. Di accettazione di se stessi nei confronti degli altri e diciamolo pure con franchezza, il cancro della ringe, e credo che il professor Pironti sia anche lui d'accordo, è tra i più devastanti che possa esistere. Professor Pironti, passiamo agli aspetti anche, come dire, clinici, generali, di un laringectomizzato, che non può deglutire, che spesso ha difficoltà, perché va incontro anche a delle infezioni a bingestis, mangia la pasta coi piselli, alcuni piselli poi li ritroviamo nel polmone. Ne vedete corpi strani nel polmone in questi soggetti? In passato molto più frequentemente, oggi un po' meno, perché si cerca, almeno nei soggetti che hanno gravi difficoltà a deglutire, di fare delle stomie con lo stomaco, mettere la PEG, e quindi superare, oppure un sondino a permanenza che gli permette... Abbiamo una telefonata, professor Pironti, mi perdoni. Buonasera, chi chiama e da dove chiama? Buonasera, io sono col telefonino, volevo sapere, Sì, il cancro, diciamo, dei polmoni, viene fuori dal catarro, cioè il catarro poi prova la ferita. Beh, dunque, le rispondo io, poi sarà anche più preciso il professor Pironti, che ha una visione più macroscopica della questione. La infezione cronica che il fumo di sigaretta determina, cioè la bronchite cronica, l'infiammazione cronica, che determina una lesione del rivestimento del bronco, porta inevitabilmente la penetrazione di cancerogeni nelle cellule polmonari. E da lì, poi, a un certo punto, scoppia il cancro polmonare, che naturalmente non può essere imputabile soltanto al fumo di sigarette, perché noi possiamo vedere che in città come Torino, Milano, Genova e anche Roma, l'inquinamento atmosferico è talmente grande da determinare un'equivalenza tra un certo numero di sigarette, faccio vedere questa diapositiva, e la quantità di benzene che noi possiamo inalare già nell'aria stessa della città, indipendentemente dalle sigarette fumate. Cioè, respirare a Roma significa inalare una concentrazione di circa 40 microgrammi di benzene pari a 10-11 sigarette. Per cui, alla fine... No, perché, adesso le seguo. Sì. Io sono ciò, la bronchite cronica ostruttiva. Sì. Da fumo. È certo. E adesso, dopo tanti anni, è cominciato a scattarlo. Sì. Allora, non ho capito, se questo c'è a lei, ha il dolore. Ecco, l'infiammazione cronica è un fattore di precancerogenicità, però non è detto che lei, e ci auguriamo che questo non succeda, debba andare incontro a una formazione neoplastica. È in dubbio, comunque, e questo glielo conferma il professor Pirronti, che il fumatore ha un rischio decisamente più alto rispetto a tutti gli altri. Professor Pirronti. Sicuramente il fumo predispone, il fumo crea la situazione di base su cui anche altri fattori agiscono. Quindi una bronchite cronica che si autoalimenta per anni perché spesso i fumatori bronchitici non smettono di fumare e quindi continuano a stimolare la mucosa in maniera eccessivamente dannosa. Queste situazioni creano i presupposti. Il quesito specifico dell'ascoltatore, però non trova una risposta come causa-effetto. Cioè la secrezione, la produzione dell'infiammazione è reattiva, non è essa stessa causa possibile. E l'infiammazione cronica, l'infezione cronica, che alla fine potrebbe portare al tumore. Va anche detto a una cosa, con molta franchezza. Io ho, e celebreremo tra poco, un maestro che a 95 anni ne celebreremo il compleanno fra qualche giorno, che è stato uno dei massimi pneumologi europei, il quale continua a fumare 60 sigarette al giorno. È scritto nel genoma umano, questo ormai è certo, che ci sono alcuni soggetti che si riescono a difendere dal fumo e altri che non si riescono a difendere dal fumo. Un po' come, professor Cohen, questo tocca entrambe le nostre discipline, un po' come quei soggetti che vanno incontro all'enfisema polmonare primario perché gli manca un enzima, l'alfa-1-antitripsina. Ed è scritto anche nel nostro codice genetico che quel soggetto fumando si ammalerà di cancro e magari si ammalerà di cancro anche non fumando. Professor Pironti, il genoma non sbaglia in genere. Ormai è più che acclarato che ciascuno di noi ha un bagaglio che si porta dietro da prima della nascita, perché non dipende da noi, dipende da chi ha partecipato a farci nascere. E questo è un dato importante, ma vale per il polmone, vale per tutti gli apparati, vale una cosa fondamentale che esiste per ciascuno di noi un apparato bersaglio, cioè quell'apparato che è più sensibile. Il famoso tallone d'Achille. Il tallone d'Achille. Ecco, e in questo soggetto di cui il professor Pironti ci manda una espressione ideologica, rivediamolo per un secondo e poi interrompiamo, la sindrome bronchietasica, cioè questa destrutturazione dei bronchi che si sfaldano, che si sfiancano e si riempiono, poi diventano delle sacche piene di catarro, naturalmente tutto questo, anche se non porta al cancro, porta a una pessima qualità della vita. Vi do appuntamento, telefonateci, perché l'argomento è estremamente importante, anche dal punto di vista sociale. Noi abbiamo 90.000 morti l'anno di malattie respiratorie da polluttanti, che siano smog o sigarette non ha nessuna importanza. Telefonateci a dopo lo stacco, adesso linea alla regia. Buon venerdì, buona salute a tutti ed è proprio il caso di dirlo, buona salute, perché ce la dobbiamo gestire noi la nostra salute. Non è vero che le malattie vengono per caso, certe volte le evochiamo anche noi. Parliamo di malattie da fumo, di sigaretta, fumo, fumi, inquinamenti di altra natura. Devo dire che sono molto contento che i nostri ospiti questa sera abbiano condiviso con me questa linea di pluri-aggressione ai vari organi apparati. Non c'è nessuno che possa sentirsi o considerarsi esente da guasti, da fumo di sigarette. Ne parliamo appunto con il professor Guido Cointirelli, autoriatra dell'ospedale Sant'Eugenio, il professor Tommaso Pirronti del Policlinico Gemelli di Roma e il professor Claudio Manna in collegamento virtuale con noi. Adesso dobbiamo aprire una piccola parentesi e prego i nostri ospiti di seguirmi, perché proprio stamattina su un grande giornale italiano, nella cronaca di Roma, è comparsa una notizia allarmante. 50.000 romani che ogni giorno si ammalano di influenza. A prescindere dal fatto che in un grande giornale bisognerebbe stare attenti nel dare notizie di questo tipo se non sono supportate, suffragate da dati epidemiologici e scientifici, i dati sarebbero riconducibili a una percentuale di circa il 2-3% di soggetti colpiti. Quando negli Stati Uniti d'America, dove recentemente esplose il problema dell'influenza, al massimo si arriva a 1%. Quindi, queste notizie, cari amici telespettatori, di cui spero arrivino le vostre telefonate allo 06 59 10 285, vanno prese un po' col beneficio dell'inventario. Però, io vorrei dare una linea virtuale a un vero esperto, uno che conosce molto bene la materia, che è il professor Tom Jefferson del Cochrane Group. Linea A. Ecco, sentiamo cosa dice il professor Jefferson. ...perché non si riesce a capire che cos'è che sta causando la sindrome influenzale, che, secondo questi organi di sanità pubblica americana, sta prendendo ad assalto gli Stati Uniti. Si tratta, cioè, di sindrome influenzale causata dal virus influenzale o da altri virus, perché sembra che alcuni degli isolamenti, cioè, dei campioni presi da altri virus, siano ugualmente alti. Però, siccome non esiste un sistema di sorveglianza persona per persona, con un campionario e comunque credibile, tutte queste sono illazioni. addirittura è venuto fuori che in Canada e in America non contano i morti per influenza, cioè, non raccolgono rutinariamente i dati sulle morti per influenza. Se non raccolgono i dati sulle morti per influenza, non sappiamo quanti morti per influenza ci sono stati. Se non sappiamo quanti morti per influenza ci sono stati, di che stiamo parlando? Sono di difficile interpretazione, perché non si riesce a capire. Grazie, professor Tonjefferson, perché il problema è estremamente importante. Dobbiamo stare attenti agli allarmismi. Certo, le sindrome influenzali sono difficili da distinguere da quelle para-influenzali e tuttavia ci sono molte motivazioni per questi allarmismi che spesso esulano dalle vicende cliniche. Torniamo al nostro argomento che è quello del fumo di sigaretta. Professor Mann, uno dei problemi che vanno affrontati specialmente nelle giovane coppie che si sposano è quello della valutazione del rischio di infertilità. Un tempo quando si parlava di infertilità insomma bene o male si addossava quasi sempre la responsabilità al sesso femminile e invece ci sono molti casi lo abbiamo detto in più occasioni in più trasmissioni di casi di infertilità che vanno ricondotti al genere maschile. Assolutamente sì ebbene il 50% delle cause di infertilità è sicuramente da attribuire all'uomo e come questo avviene? Avviene fondamentalmente per un danno agli spermatozoi e il fumo di sigaretta è uno degli agenti e delle situazioni che può danneggiare in maniera importante gli spermatozoi in modo particolare li può danneggiare su quello che è il movimento che è uno dei parametri più importanti per gli spermatozoi perché gli spermatozoi logicamente devono arrivare al bersaglio che è l'ovocita se il movimento diminuisce ebbene hanno difficoltà ad arrivare a fecondare l'ovocita si è visto che il fumo di sigaretta diminuisce proprio la riserva energetica degli spermatozoi perché colpisce quegli organelli e cioè i mitocondri che sono proprio queste grosse riserve energetiche voi potete immaginare che il movimento ha bisogno di grossa energia faccio vedere una micro fotografia una foto una slide una un grafico nel quale io personalmente ho identificato il movimento serpigginoso della coda dello spermatozoo che vediamo in sezione tagliato in sezione trasversa un po' alla biella della locomotiva perché gode di un eccentrico che gli consente di serpigginare un po' come fa la serpe nel deserto questo movimento viene bloccato dal fumo e si attraverso proprio diciamo così un inceppamento del meccanismo di produzione dell'energia che si trasmette naturalmente a raffalagelli e dunque a tutti questi organelli che poi sono deputati proprio al movimento in sé per sé non solo ma addirittura il fumo è uno di quegli agenti che può fare aumentare proprio delle sostanze diciamo così che poi vanno ad agire negativamente sui cromosomi degli spermatozoi quindi questi agenti ossidanti arrivano proprio a ledere il cuore diciamo così dello spermatozoico il suo contenuto in DNA in cromosomi con delle frammentazioni molto piccole molto sottili proprio della elica del DNA degli spermatozoi e quando queste frammentazioni aumentano in maniera importante naturalmente quindi con un danno molecolare assolutamente e questo danno si trasferisce poi all'embrione dopo che con la fecondazione i cromosomi degli spermatozoi sono fusi con i cromosomi degli ovociti e dunque voi potete immaginare quali danni poi produce all'embrione io che vedo tante di queste coppie infertili e anche quando si devono fare i tentativi di fecondazione assistita per cercare di restaurare la fertilità ebbene un embrione che è danneggiato dal fumo perché magari gli spermatozoi lo hanno prodotto ebbene diventano più difficili i risultati con la fecondazione assistita ecco poi naturalmente ci sono altre problematiche come quelle cliniche che si riconducono a studi antichissimi cioè si era visto nei lavoratori delle vernici nei lavoratori di vernici all'anilina che il cancro vescicale vediamo questa diapositiva che il cancro il tumore vescicale o il tumore dell'apparato riproduttore compreso anche il tumore del rene era riconducibile all'anilina e l'anilina è uno stretto parente del 4-benzopirene che è un prodotto del fumo di sigaretta ma poi io vedo lì in questa diapositiva che c'è anche un rapporto con la funzione erettile fumo e funzione erettile sono strettamente collegati? assolutamente sì perché le sostanze contenute nel fumo di sigaretta proprio vanno a determinare un danno a livello dei vasi delle arterie in modo particolare che poi trasportano il sangue che serve poi alla funzione erettile quindi a un corretto rapporto sessuale quindi in un certo senso è assolutamente il contrario di quello che una volta si voleva far vedere cioè che il fumatore stile quei film hollywoodiani era un po' il macio era un po' la sigaretta dopo esattamente l'opposto la sigaretta dopo ecco ecco quindi è assolutamente vero quello che tu che tu stai dicendo e quindi in una realtà di coppia importante che non è solo la fertilità ma che anche la sessualità il fumo di sigaretta oltre a agire negativamente sulla fertilità agisce negativamente sulla sessualità ecco sempre nella diapositiva e pregherei la regia di ridarcela si legge marijuana e aumento del rischio di cancro al testicolo cos'è una novità oppure una cosa abbastanza nota? diciamo che i report cioè gli studi e le conferme stanno aumentando nel corso del tempo ed effettivamente si è visto che c'è una relazione tra marijuana e insorgenza anche di tumore nei testicoli è vero quindi insomma questi nostri giovani devono stare estremamente attenti alla loro conduzione di vita al loro stile di vita perché abbiamo visto che il cervello viene impegnato con una riduzione di portata d'ossigeno quindi studiare con la sigaretta accanto significa probabilmente rovinarsi quell'esame il laringe viene intaccato il polmone non ne parliamo rivediamo questa diapositiva del professor Pirronti sulla sindrome bronchiettasica ma poi soprattutto andiamo ai noduli polmonari c'è la possibilità professor Pirronti di preconizzare di una identificazione precoce di lesioni piccolissime attraverso le vostre nuove tecnologie i vostri nuovi apparati non siamo più all'epoca di Röngen o di Vallebona Vallebona era lo ricordo ai nostri telespettatori Vallebona era un radiologo genovese degli anni 30 il quale inventò un sistema di modifica rotatoria dell'apparato radiologico sull'individuo e lui faceva le cosiddette tomografie cioè non faceva la radiografia dell'intero pezzo buonasera chi chiama da dove chiama telefonate in linea pronto? buonasera sono Paolo Paolo finalmente come sta? eccoci qua dica Paolo sto abbastanza male ah bene bene nel senso che sto abbastanza male perché come lei sa dai dolori che aveva allora adesso mi trovo a non poter camminare beh quello è un problema l'abbiamo già affrontato Paolo sono caduto vicino via Trabologna ho dovuto venire dall'ambulanza per portarmi via va beh Paolo le facciamo i nostri auguri però mi si bloccava il movimento le facciamo i nostri auguri anche i nostri ospiti le fanno i loro auguri lei ha delle domande da farci sul polmone sul fumo di sigaretta sì prego sul polmone ho spesso necessità di tossire ma non ci riesco a tossire perché c'ho la dorsa col fisico ecco quindi c'è anche una piccola componente asmatica e non respiro bene sì di fatto si sente che ha una certa difficoltà respiratoria professor Cohen lei che è molto vicino alla pneumologia sovrastandola solo perché sono amico tuo sì per carità io credo che dovrebbe farsi vedere da una da un esperto di bronchopomologia e farsi dare un consiglio perché probabilmente Paolo ha anche una componente cardiovascolare che è d'obbligo in queste vicende professor Pirronti sì il polmone agisce spesso in concomitanza con problematiche cardiache è sufficiente che il cuore svolga poco bene la propria funzione per contribuire a peggiorare una situazione polmonare esistente o preesistente per cui è giusta l'integrazione tra il preomologo competente su un versante e il cardiologo competente sull'altro d'altra parte il nostro polmone è fatto di una come dire è un cestino è un contenitore come quelli del supermarket però avvolto da una rete vascolare e la la simbiosi tra le due componenti quella gassosa e quella circolatoria è talmente stretta che poi alla fine anche il ministro Gelmini ha convenuto che noi pneumologi dovessimo diventare dei cardiologi e quindi adesso noi siamo esperti di malattie cardiopolmonari non esiste più il malato polmonare ma è il malato cardiopolmonare quindi Paolo un buon consiglio che le ha dato il professor Cone è quello di farsi vedere grazie e a presto ma purtroppo il polmone ha anche una sua evolutività verso le manifestazioni neoplastiche che poi sono quelle che ci costano di più che costano sicuramente in termini di qualità della vita sia in termini di qualità della vita che in termini di sopravvivenza e allora spesso ci si riduce in condizioni di questo tipo professor Pirronti buonasera chi chiama da dove chiama pronto? si buonasera buonasera ci dica ci dica si volevo chiedere informazione sulle sigarette elettroniche ecco ci stavamo arrivando le sigarette elettroniche aspetti un attimo che cambio diapositiva perché le sigarette elettroniche costituiscono oggi se i miei amici e colleghi lo consentono è business dovrei grande parlarne io perché insomma sono direttamente investito della della qualità di rappresento la pneumologia in questa diapositiva si vede la sigaretta elettronica che è un dispositivo che nebulizza attraverso un microprocessore sapete che cosa il liquido glicole propilenico ora come si vede in questa diapositiva il glicole propilenico è un liquido sintetico che assorbe l'acqua ed è usato per composti di poliestere per soluzioni di sbrinamento viene utilizzato dalle industrie chimiche alimentari farmaceutiche come antigelo è vero dunque che la food drug administration americana ha classificato il glicole propilenico come generalmente sicuro però non abbiamo delle idee ancora chiare non ci sono degli studi longitudinali sulle proprietà che questa sostanza può esercitare sulla clearance mucociliare e l'acqua epiteliale professor Cohen cos'è la clearance mucociliare la clearance mucociliare lo dica in due minuti che si avviciniamo alla chiusura è praticamente quel doppio fenomeno che avviene grazie alle microciglia delle mucose per spostare il muco e per cui una produzione di muco che serve a inumidire e proteggere la mucosa dal passaggio dell'aria in poche parole è quel film di liquido che noi abbiamo su tutte le mucose che è necessario affinché la mucosa venga protetta dall'insulto dell'aria che passa ecco la vediamo qui in questa diapositiva questo è il il tappeto di ciglia vibratili che si comporta in modo tale da essere assimilato a un tapirulant a una scala mobile e porta su verso la bocca tutte le porcherie che vengono assorbite all'interno ora è molto probabile dagli studi che si stanno conducendo perché si è visto che il bronco si chiude con la sigaretta elettronica o comunque aumentano le resistenze bronchiali questo è certo che avvenga una piccola paralisi a carico di queste ciglia vibratili questi sono gli studi iniziali naturalmente il profilo futuro lo sviluppo futuro di questi studi che verranno sicuramente implementati ci dirà se la sigaretta elettronica è un buon sistema o se invece appartiene a tutt'altro tipo di novità grazie e buonasera dicevamo professor Pirronti che abbiamo la necessità di una identificazione precoce di una forma neoplastica è vero che esiste la possibilità di testare nel sangue alcuni antigeni che possono predire o preconizzare una malattia neoplastica ma la loro certezza la certezza di una diagnosi non è sicura perché ci possono essere dei falsi positivi professor Pirronti invece l'identificazione fotografica radiologica è certa è oggettiva perché le immagini sono tali e rimangono tali per chiunque le veda e c'è un problema interpretativo che deve essere sottoposto ad un'analisi estremamente accurata ed attenta oggi la l'attac con le ultime generazioni con la possibilità di studiare in maniera estremamente dettagliata strati sottilissimi di polmone è una documentazione in vivo dell'anatomia cioè noi abbiamo elementi che possiamo documentare dell'ordine di millimetri o addirittura inferiore a un millimetro questo ha comportato dei grandi vantaggi nello studio estensivo solo nei soggetti a rischio come screening o come studio del polmone al fine di identificare lesioni le più precoci possibili ma qui si creano subito delle problematiche lesioni troppo piccole non siamo sempre in grado di orientarle da un punto di vista diagnostico e in questi casi il controllo la possibilità di seguirle nel tempo o di integrare con altre indagini rappresenta un punto fondamentale ecco le faccio una domanda sperando che magari qualche telespettatore ci voglia telefonare per chiederla lui ma se io voglio fare più lastre nel corso dell'anno o faccio una lastra l'anno per cercare di prevenire queste manifestazioni neoplastiche mi brucio i polmoni o no? no sicuramente no solo che il radiogramma del torage quello convenzionale quello standard anche in due proiezioni non è sufficiente a documentare piccole lesioni millimetriche o inferiori al centimetro e soprattutto non consente di orientare la caratterizzazione l'eziologia noi abbiamo cioè la qualità della lesione della lesione immagini molto piccole che noi identifichiamo nel polmone e che oggi possono essere interpretate molto piccole come piccoli noduli se la storia del paziente è quella di essere un soggetto a rischio devono poi portare ad un'integrazione se sono dell'ordine di un centimetro poco meno abbiamo altre tecniche tipo la PET-TAC che può essere di aiuto se hanno un aspetto che non è neppure ancora nodulare ma pseudonodulare o quello che noi chiamiamo aumento di densità circoscritto o a vetro smerigliato quelle rappresentano proprio lesioni estremamente iniziali noi abbiamo visto pazienti che appena modificati questi noduli anche sub solide sono stati operati ed erano lesioni tumorali però c'è una problematica che è molto complessa intanto sono indagini quelle cui fa lei riferimento estremamente costose se dobbiamo aspettare la via classica ufficiale etichettata diciamo dobbiamo aspettare 6-7 mesi e magari in questi 6-7 mesi può succedere di tutto non c'è un modo per identificare anche radiologicamente dei soggetti a rischio facendo un mix tra anamnesi e lesioni non dico precancerose ma che sicuramente possono preludere a una loro evolutività l'integrazione con la clinica è fondamentale noi speriamo che i prossimi anni ci forniscono anche altri elementi biomorali sostanze presenti in circolo che ci orientano e quindi consentono un approfondimento ulteriore però già il fatto di avere come maggiore fattore di rischio il fumo di sigarette in pazienti che hanno questo e da tanti anni diventa pressoché indispensabile eseguire almeno un esame di base su cui impostare poi eventuali controlli professor Manna una domanda per lei immagino che nella sua attività professionale che è prevalentemente votata alla cura alla diagnosi prima e alla cura dopo della infertilità bifront sia maschile che femminile immagino capitino capitino delle situazioni in cui uno dei due della coppia o entrambi siano fumatori l'interruzione del fumo di sigaretta a una data ben precisa consente dopo qualche mese di ripristinare uno stato di fisiologia c'è una reversibilità per quanto riguarda l'infertilità ai fini appunto di una procreazione io ti ringrazio per questa domanda perché è un punto importante e molti pazienti fanno questa domanda io posso dire con tranquillità che almeno tre mesi di interruzione o di forte riduzione sarebbero davvero importanti questo perché perché questo è il tempo più o meno in cui nell'uomo c'è una rigenerazione diciamo così della spermatogenesi cioè degli spermatozoi perché uno spermatozoi impiega 72 giorni in realtà dalla nascita alla sua completa maturazione ma anche nella donna la cosiddetta follicologenesi cioè diciamo così la maturazione dei follicoli che poi andranno ad ovulare impiega lì anche lì intorno ai tre mesi dunque specialmente quando si devono sottoporre tecniche di fecondazione assistita ebbene sarebbe opportuno che per tre mesi si interrompesse il fumo in entrambi ecco e poi io vorrevo ricordare spero nella sua conferma che il fumo di sigaretta a livello maschile determina una sindrome che noi abbiamo studiato come sindrome di Lerish cioè una rapida caduta della permeabilità insomma comunque del flusso dell'arteria peniena per cui l'impotenza è spesso d'obbligo anche nei soggetti adulti voglio dire assolutamente sì e questo è uno dei motivi per cui il fumo è negativo sia per la parte strettamente riproduttiva ma anche per la parte sessuale ma a volte proprio veramente l'unico problema che c'era per la riproduzione per avere un figlio era che lui non era in grado di avere un'erezione e allora a quel punto abbiamo dovuto curare forte fumatore tra l'altro e spesso è un po' così anche perché l'uomo è un po' come età più grande della donna e oggi diciamo questo è abbastanza frequente insomma abbiamo dovuto curare in qualche modo anche i problemi erettili e quindi il fumo va naturalmente come diceva lei nella sua introduzione filmica nel filmato anche la donna che sta cominciando a seguire le orme del maschio per quanto riguarda il fumo subisce delle problematiche a livello follicolare io ringrazio i nostri ospiti vi rimando alle repliche di questa puntata che saranno domani sabato alle ore 16 su Sky 518 domenica alle ore 14 e 30 e alle 23 e poi successivamente lunedì alle ore 10 e 30 del mattino e vi rimando anche alla nostra pagina facebook barra medicina punto doc grazie professor Guido Coentirelli speriamo di rivederla presto grazie professor Tommaso Pironti e grazie naturalmente al professor Claudio Manna vi do appuntamento alla settimana prossima perché parleremo e ve l'avevo già annunciato all'inizio di questo ciclo di trasmissioni della casa fonte di veleno gli avvelenamenti domestici dai detersivi ai pesticidi e quant'altro a cui bisogna stare estremamente attenti ed esistono per fortuna nei grandi policlinici delle grandi città i CAV cioè i centri antiveleino che non vuol dire cavaliere ma proprio centro antiveleino quindi CAV d'ora in poi dovrà essere letto sotto questo tipo di formulazione agronimistica grazie buon weekend a tutti anche se c'è molto freddo professor Cohen bisognerà coprirsi naso e gola sono a rischio in questo periodo buon weekend a tutti con punto doc settimana prossima venerdì grazie